Lunedì 20 giugno 2022, ben ritrovati a tutti voi, io sono Manuel, questo è Forza Lazio, partiamo con la nostra sigla Ebbene ragazzi, ben ritrovati, ben ritrovati a tutti voi Vi ricordo immediatamente che ci trovate su YouTube come Canale Forza Lazio Mentre su tutti gli altri nostri social che vedete indicati qua sotto, che sono Facebook, Instagram, Twitter e TikTok Ci trovate come Canale Forza Lazio, tutto attaccato, chiaramente siamo facilmente riconoscibili dall'aquila stilizzata che ci contraddistingue Vi ricordo anche il nostro indirizzo email per contattarci, canaleforzalazio.gmail.com Così come vi ricordo, e lo vedete qui in alto invece, di seguirci anche sul nostro sito www.canaleforzalazio.com E il video che va adesso in sovraimpressione vi indica come fare per diventare nostri followers In questo modo voi venite sempre attivati degli articoli, delle notizie che facciamo uscire E soprattutto, non vi perdete nulla, soprattutto diamo vita sempre più a quella che è la nostra community Grazie di cuore a quella che è la nostra azienda che ci supporta fedelmente da oltre un anno Quindi sto parlando del ristorante La Palazzina del nostro amico Franco a San Cesario Non dimenticate mai di andare a nome di Forza Lazio Perché avrete un trattamento assolutamente riservato Inizia una nuova settimana ragazzi Settimana che è importante principalmente per due aspetti Tre, tre aspetti Il primo è la notizia di giornata Tra, veramente no, dovrebbe essere già sbarcato da circa una mezz'oretta a Roma Marcos Antonio Quello che sarà il nuovo acquisto della Lazio Quello che adora E voi avete capito perché dico adora È il nuovo play della Lazio Il sostituto di Lucas Leiva Marcos Antonio preso dallo Shakta Operazione da 8 milioni di euro più 2 di bonus Pagabili in tre anni Quindi vuol dire che Marcos Antonio a bilancio della Lazio Costerà poco più di 3 milioni e mezzo di euro a stagione Operazione perfetta Giocatore dal grande avvenire Circa 1,65 m d'altezza Giocatore che nasce come Mezzala Che poi si è adattata nel corso del tempo Soprattutto della scorsa stagione Grazie a De Zerbi nel ruolo di regista Giocatore giovanissimo, 22 anni Sul quale c'è tanto da lavorare Ma che assolutamente rappresenta un'ottima, solita base di partenza Ne parlano tutti bene Quindi o sono tutti impazziti O davvero Marcos Antonio è uno dei tanti brasiliani Che vengono sfornati dallo Shakta Ardonalds con regolarità Quindi oggi visite mediche in paiteia Tutto quello che deve fare E poi sarà pronto il discorso relativo a Marcos Antonio Che potrà essere considerato un nuovo calciatore della Lazio Attenzione a un particolare che non tutti stanno dicendo Marcos Antonio non gioca da dicembre È un calciatore fermo da dicembre Il campionato infatti ucraino era andato in pausa a dicembre Quando doveva riprendere purtroppo E me è scoppiata questa maledetta guerra E lui come tanti altri suoi compagni È letteralmente scappato dall'Ucraina È andato subito in Polonia Per poi fare ritorno a casa Quindi comunque Marcos Antonio ragazzi Sono praticamente sei mesi che non gioca Quindi attenzione perché il graduale rinizio Con la regolarità dell'attività Va curato con molta attenzione Ma questo chiaramente non devo dirlo io Sarri lo sa perfettamente Il secondo fattore importante di questa settimana È domani Domani c'è questa famosa sentenza Riguardante appunto l'indice di liquidità Se sarà o meno uno dei parametri validi Per l'iscrizione al campionato Indice di liquidità Per il quale dovrebbe essere retroattivo Insomma il bilancio Che va a influire su questo medesimo indice Se vince il sì Lo dito a tempo 24 ore Entro dopo domani Per versare questi circa 4 milioni di euro Per sbloccarlo Se vince il no L'indice di liquidità vuol dire che non è fattore determinante Per l'iscrizione al campionato E quindi la Lazio avrebbe un'altra settimana di tempo Per sbloccarlo in altra maniera Ossia con la cessione di Bavro Si sta lavorando in maniera importante per Bavro Veramente è tutto fatto Io non capisco il perché di questo rallentamento Del perché non c'è questo benedetto annuncio Io un'idea me la son fatta Secondo me L'ho scritto anche nel nostro sito Secondo me Tutto questo è legato solo al fatto che Lo dito se ne stava in vacanza Che Tare sta in giro Per fare calciomercato Per provare a fare calciomercato La Lazio è talmente snella Nella sua struttura societaria Che non c'è nessuno che può andare a definire O comunque che ha le autorizzazioni Per andare a definire In maniera ufficiale la cessione di Bavro Io la vedo così Oggi dovrebbe finire la missione di Tare a Londra Sembra una coincidenza ma i video parlano Vi avevo detto di questo asse con il Chelsea Poi è una notizia che è uscita sempre più Asse con il Chelsea Si sta parlando di tante situazioni Chiaramente il Chelsea Non lo dirà mai in maniera ufficiale Ma spinge per avere Milinkovic e Savic Abbiamo fatto tante ipotesi I giocatori che dovrebbero rientrare Uso il condizionale Perché secondo me c'è un altro calciatore invece Che potrebbe rientrare In questo discorso Di un eventuale mega scambio Più mega cash a favore della Lazio Però ancora non ho riscontri Diciamo che ad ora Quello che non mi piace raccontare stupidaggini Se ho notizie le dico Se non ce l'ho non le dico Allo stato attuale ragazzi Secondo me quello che Che è un po' più veritiero è Che il Chelsea Sta su Milinkovic Al contrario del Manchester United Che ieri ha ufficialmente dichiarato Di non essere interessato al calciatore Quindi praticamente Milinkovic piace al Chelsea Chelsea che Offrirebbe circa 60 milioni di euro Più l'inserimento di due contropartite tecniche Oddio veramente 61 mi diceva 50 all'altro Diciamo tra i 50 e 60 milioni di euro Più Emerson Palmieri Che è giocatore graditissimo a Sarri Più questo Love to Chick Che secondo me ragazzi È fuori dai parametri della Lazio Continuo a ribadirlo anche adesso Prende circa 4 milioni di euro a stagione Secondo me Questo calciatore ad oggi È fuori dai parametri della Lazio Oppure Già si sta Imbastendo una trattativa Per cercare di rivedere Questo stipendio del calciatore Magari un quinquennale Glielo fai a 3 e mezzo E cerchi in qualche modo Di sistemare La pratica Quindi Secondo me Questa sarà La settimana della Lazio Ma Secondo me Sempre in questa settimana Arriveranno Finalmente Notizie Riguardanti Eventuali Cessioni Di calciatori Uno su tutti Vavro Vavro Ripeto Lo ribadisco ancora una volta È tutto Definito Tutto Fatto Su Murici Invece Mi risulta Un fortissimo Raffreddamento Dalla Spagna Dove il Mallorca Ha fatto il suo Il Mallorca Non può andare Oltre i 7 milioni Di euro di offerta Nemmeno arriva agli 8 Che abbiamo letto Di qua e di là Fonte mia diretta Quindi da quello che so io Da quello che mi è stato detto Il Mallorca Neanche arriva A 8 milioni di euro Arriva a sfiorare i 7 La Lazio è molto tentata Però Sta sempre aspettando In extremis Cosa Le solite Conferma Delle solite voci Che arrivano dalla Turchia Dove appunto Sembrerebbe Che Galatasaray Abbia messo nel mirino Morici La Lazio Seguiteci là Così non vi perdete Nulla delle nostre notizie Cliccando su Segui Come vi ho fatto vedere All'inizio di questo video Venite aggiornati automaticamente Degli articoli Che noi andiamo A pubblicare Ok Vi mando un abbraccio Forte ragazzi E sempre Forza Lazio Ciao Ciao